Signore e benvenuti in una nuova puntata della Let's Technique 4 Allora ragazzotti nella scorsa puntata siamo andati un po' avanti con le quest Abbiamo fatto un po' di esplorazione, un po' di mining Abbiamo potenziato il piccone fino a portarlo al mana steel level E abbiamo anche messo ovviamente alcuni modifier per avere diciamo un po' più di loot in più Tipo anche con i diamanti e cose del genere E anche con la spada ovviamente stiamo cercando di portarla a livello di looting 3 Perché ovviamente uccidere i mostri e ottenere più oggetti ci serve come il pane Allora qui buttiamo le cose che non ci servono E andiamo per forza di cose a controllare il questbook Perché il questbook ci dà una mano per l'appunto per il proseguimento del gioco E per l'appunto o andiamo con le chest Oppure io direi di magari fare una cosa più intelligente E andare con il miniaturization field projector Che ci serve per l'appunto per fare il come si chiamano i multiblocchi Essendo un modpack basato su multiblocchi non vedo perché non dobbiamo magari tipo approfittarne Tanto poi ho fatto un paio di quest K-Ring ok thank you Poi magic crystal ci dà 4 great food sapling Che dà della towncraft non so cosa c'entri con questa mod Qua ci chiede di fare il dunk Che oh mio dio quanto Quanto cazzo è difficile da fare Vabbè però non ci fa passare da tutti gli altri livelli Poi abbiamo ottenuto vari lingotti Che con claim all possiamo tranquillamente recuperare in man che non si dica O in dica che non si man Allora perfetto Quindi andiamo a buttare le cose che non ci servono dentro le chest Io devi buttarle qui alla rinfusa Giusto per Questo come funziona? Ah il contenitore delle chiavi Interessante anche perché abbiamo un bel po' di chiavi Qua non ne ho Qua invece si Abbiamo questa chiave qua Poi non ne ho degli altri Si una qui una qui Queste due non so se ci entrano Lightning key Altro No qui dentro non ce n'è Vediamo se qui c'è qualche altra chiave Dovrebbe esserci quella del coso Del ragno Che l'abbiamo usata C'è anche quella d'oro C'è quella metallurgica Vediamo se c'è dell'altro Non mi pare ci sia dell'altro Ok Qui dovremmo fare così E tipo buttarle in questo modo Anche questa Ok dovrebbe funzionare tipo Per ogni cosa Credo 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 Comunque andiamo ad aprire il nostro questbook Quindi noi dovevamo fare Per l'appunto il miniaturization Miniaturization field projector Che si fa in questo modo qua Abbiamo bisogno di un under fragment Quindi dobbiamo buttare Un under pearl Con lingot cast Che non abbiamo ancora fatto Ora non vorrei che non ci fosse Sì Non abbiamo fatto il lingot cast Quindi vabbè E' abbastanza semplice Andiamo a prendere dell'ovo Uno e due Purtroppo questa fornaccia Non raddoppia gli or E' un po' una ciofecca Però vabbè Allora poi dopo Che cosa che Allora dobbiamo cercare Miniaturization field projector E vabbè Questo abbiamo capito come si fa Però non so se effettivamente C'è un under Si ce l'ho un under purple Perfetto Detto con la L Poi Advanced rest on torch Che non ho idea Di come funga Però dovremmo avere Tutti i materiali per farla Thank you so much Quindi andiamo a fare Almeno questa Perfetto Poi Caminite brick Che non penso Siano difficili da fare Che vuole Oh l'Universal Binder Seriously Vuoi quella merda Di Universal Binder Vediamo Universal Interactive Studios Dai 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 Dimmi che ne ho da qualche parte Dimmelo Dimmelo No No Ma veramente Infinity Dimmi che c'ho almeno L'Infinity Dust Buttata da qualche parte No Raga Devo andare Oh Che pizza Ma io l'ho messo Il livello Il coso Nella bedrock No Non l'ho messo neanche Maledetto Che cazzo Perché cazzo Mi fai spawnare qua Cioè voglio dire Allora Dovremmo essere Scesi da qua Se non erro Non mi ricordo Vabbè raga Facciamo un altro Livello bedrock E poi ci metto il waypoint Ok raga Ne possiamo fare In realtà un po' di più Ma io mi fermo A 40 Perché Queste 4 Ragazzotti Le conserveremo Con gelosia Perché ci sono I semi Della Della mystical agriculture Quindi non ci conviene Magari tipo Sprecarli tutti E andare Ma se non erro C'è anche l'agricraft No E Questo Ok Questo si può fare tranquillo E I crop Cos'è questo Vabbè Ci vuole un po' D'immersive Questi Queste Cosi Che Sono Semplici Da fare Ok 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 Ah e ci serve Il crossover O il sap Per farli Maledetto 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 Bastanovic Allora La coke oven Vediamo se I coke brick Sono semplici Da fare Oppure Questa Ma Devo dire La verità Sono anche Alla nostra Portata Allora Noi serviva Questa Cosa qua Per fare I blocchi Allora Io direi di fare Com'era Mini Autorization Mini Qualcosa E fare Ah ce l'abbiamo qua Perfetto Allora Ci servono Le slab Per fare le slab Ci servono Almeno Tre bricks Per fare tre bricks Ci servono Quattro Per tre Dodici Di questi Quindi Dodici Carminita Blend Ok Quindi dobbiamo fare Almeno tre crafting Poi andare a cuocere Come vedete Ho cotto un po' Di Di iron Perché ci serve Ragazzi Quindi facciamo così Mettiamo La metà del coal Qui E la metà del coal Qui Perfetto Ora Io volevo provare A fare con voi Il L'anvil Uno Due Tre Vediamo se si può Fa Perché magari Ok si può fare Si può fare Pensavo lì no Per un attimo Avevo paura Perché volevo fare L'anvil Perché con loro Noi possiamo Riparare L'armatura Che io non ve l'ho detto Ma Nella scorsa puntata Ho Perché scusa Ho praticamente Ucciso uno dei boss Che trovo in giro Per il mondo E in poche parole Mi ha dato questa armatura Che ha frost protection 9 E flim flam Di livello 4 Che io non so Cosa facciano Entrambe Però Ragazzi Mi dà un bel boost Alla velocità Mi dà un 14% In più di velocità Quindi io direi Che male Non ci fa Allora Prenderei anche un po' Di diamanti Perché il resto Dell'armatura Vorrei averlo Di diamantino Perché Schifo Non ci fa Ragazzotti Quindi togliamo Questo schifo 1 2 E 3 Adesso mi sento Un attimino Un attimino Un po' più Sicuro Ora Ci serve Da prendere L'ossidiana Quindi io andrei A prendere Un bel secchiello D'acqua Ecco perché Ho fatto Diciamo Tutto questo Casino Perché Volevo andare A prendere Miniera Vediamo Vediamo No C'era un Waypoint Che era proprio Vicino Forse Ah si La Diamond Vein Ecco dove c'era Tipo quel pezzo Di cobblestone Che stava Saltando Per tre quarti D'ora Quindi facciamo Così Thank you Ma tu sei Bellissimo Ma sei Meraviglioso Allora Andiamo a raccogliere Un po' Di ossidiana E con un po' Intendo dire Nacaterva Nacaterva 36 pezzi Di ossidiana Perfetto No Aspetta Aspetta Togliamo questo Questo qua Andiamo a prendere Un po' di ossidiana Da qua Perché volevo Mi accotto Ovviamente Il camminate Brick Perfetto Quindi facciamo Questo modo qua Andiamo a camminate Brick Abbiamo anche Il camminate Brick slab Thank you so much Quindi l'ultima cosa Che ci manca da fare L'ender fragment Andiamo a cuocere Quest'ender pearl E infine Il soft Suit covered plate Che vuole Il tiny coal E una plate Con le leghe Mi da Una plate In più Mentre con I materiali base Mi da Una sola Plate Allora Vediamo quanti Vuole Innanzitutto Questo martello Penso che si possa fare Con Qualsiasi Materiale Spero Perché Se così non fosse Mi Non sarei tanto Felice Allora Dovrei avere delle stringhe Da qualche parte Non so se vuole Le string Oppure Perché Questo era il crafting Se non erro Delle Legend Summer Eppure me lo fa fare Ok Facciamo un po' di plate Che tanto Non ci Cioè Ci servono Ci serviranno Sicuramente Andiamo a fare Un bel po' di Tiny coal E dovremmo esserci Dovremmo esserci Bim Soft Covered Plate Quindi in teoria Dovremmo avere Tutto Ah no 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 Dobbiamo Fare Quanto tempo vuoi Dammi le torce Testa di minchia Nel frattempo Dato che ci siamo Ragazzuoli Abbiamo nove libri Ma in realtà Ne potremmo fare Degli altri In realtà Potremmo andare A recuperarli Dalle torri dei maghi Perché ho visto Che c'erano Le librerie Vediamo se ci sono Altri libri Da qua Vicino Ok c'è questo C'è questo E basta Non penso che Enchantment table Sono indicato i diamanti Thank you Enchantment table Ah perfetto Quello è rimasto Vanilla O così mi piace Così mi piace Mi piace Allora andiamo a buttare dentro Tutte queste cose Che non ci servono Compreso il Nickel ore Questa roba pure Non mi serve Questo qua L'universal binder Lo buttiamo qui dentro Monster jerky L'ho fatta giusto per Le plate a posto Il secchiello Andrei fuori A buttare L'enchantment table Andiamo subito Subito a vedere Se diventa ostile Se noi gli rubiamo Qualcosa Ma In realtà Ma perché volevo mangiare Se ho la fame piena In realtà Prima son passato E non mi ha fatto niente Cioè la prima puntata Ciao Gigio Vedi Non ci fa niente Posso rubarti le librerie Cazzo Si incazza Si incazza Se ne rubo le librerie Via Fuggi stronzo Fuggi stronzo Allora E ovviamente Ti potrei chiudere qua Sì Non vorrei che tipo Ecco Ciao Le mani lì dentro Per sempre Mi ha detto Un tom of arcana Block item Concept Arcana Quella mod Si 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 Poi vedremo Poi vedremo Allora Prendiamoci un po' di legno Un po' di legname Il legname non basta Mio signore Come al solito Il legname di stronghold Possiamo fare solo 10 librerie Vero? Ma noi ce ne servono 15 Quindi andiamo a recuperarci Un po' di legname Altro po' di legname Un altro po' di legname Non basta Mio signore Thank you Thank you Grazie mille Grazie 2000 Grazie 3000 Perfetto Ok 15 Andiamo a prendere Ovviamente andiamo a fare il legno Infine Hawkbook shelf Thank you so much You're very kindly Facciamo così No Testa di cazzo No ti devo ricraftare Per colpa Che ti sei piazzata male Facciamo così Così Ora non so se Lui raggiunge il livello 3 No Il livello 28 Pezzo di merda Quindi me la fai craftare Per forza Va bene Allora io non so se La grindstone È un coso No è dell'ad 1.16 Ah vabbè C'è un disenchanter Disenchanter Vediamo Lens of disenchanting Book of the disenchantment Che Che si sono Inchant for the net Return Them as a book Right click On a gravel soul Grieve soul In your often Allora Ok Dovrei averne Di quella polverina Strana Perché Ho ucciso Un bel po' di mob Abbiamo una qua Non abbiamo Tanta E due Cazzarola Vabbè Non ho ucciso Così tanti mob Mi aspettavo Qualcosa di più Sicuramente Vabbè Sti gran cazzi Allora Vediamo se Sì vabbè Se non piazziamo Ovviamente Alla libreria Allora Ci serve Il lapislazuli Che io non ho Merda No Non ho il lapislazuli Ma veramente No Vabbè raga Vado a cercare un po' Di lapislazuli Porca puttana Raga Non potete capire Non potete capire Cioè Allora Ero qui Stavo scavando Cominciato a inveire Contro minecraft E finalmente Porca la puttana Abbiamo trovato Il lapislazuli Cioè Raga Ci sono due ore Buttato così Cercando lapislazuli No Vabbè raga Cioè È una cosa assurda Io in teoria L'avrei dovuto anche montare Questa puntata Invece c'è Non ce la faccio Perché Poi devo andare al lavoro Qua Devo buttare Anche un po' Di roba Perché Ho troppa roba Nell'inventario Menomale che abbiamo fatto Un bel po' Di stack Di lapislazuli Ma poi Cioè Non è possibile Raga Non è possibile È una cosa fattibile Questa Cioè Stavo girando Come un deficiente Cioè Cercando lapislazuli Vabbè Possiamo sprecarne un po' Per dare il loot in tre Alla nostra spada Tutta questa roba La buttiamo qui dentro Tra l'altro Raga Ho battuto Altri boss Cioè Tipo Due Tre boss Quattro Forse Anche C'è tipo Vedete Tutta la La roba Che c'è lì E Ho trovato Quest'arco Che da Multishot 7 Power 7 Che praticamente Ah Praticamente Nemici Che Sono Oltre i 30 blocchi Prendono più danni Mi dà molta più esperienza Se uccidiamo il mob Con questo Vabbè Questo faceva cagare Però Raga Ci abbiamo Il 23% Di swim speed Cioè Della velocità Del nuoto Tra l'altro Questo Mi dà No Questo qua Mi dà 16 Di vita In più E 54% Di Velocità Del nuoto Ora voglio provarlo Scusa 54% È molto Eh E Stimamente Non è lento Non è lentissimo Anzi Va più che bene Mangiando la pizza Poi abbiamo Fatto un cuore in più Ora io voglio provare Assolutamente A Incantare La diamond chestplate Perché è l'unica cosa Tratto raga Guardate i diamanti Che c'ho Allora Qua ne ho 23 Poi vabbè C'ho tutta l'armatura Qua ne ho 28 Poi Ma ne ho anche altri Perché Tipo tornavo a casa Li butto Qua ne ho 10 C'è Raga Ah no Qua ne ho lo stack C'è Boh vabbè Raga Questo mod perché è qualcosa di assurdo Comunque con i materiali Prote Protection 4 Ma Ma sei serio C'è Perfetto Ora io non so Se Vabbè a parte che Possiamo riparare Tranquillamente Dall'invil Tipo Se noi ci buttiamo Questa adesso così Con 3 lingottini Ce la caviamo Poi qua abbiamo Protection 7 Flimflam 3 che Flimflam Non ho ancora capito Che cos'è Qua unbreaking 16 Multijump 6 Rebounding 5 Protection 7 Mamma Ed è unbreakable Ed è unbreakable C'è Ok Ok Fosse stato di diamante Sarebbe stato Molto più epica La cosa Molto 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 di più Tra l'altro Il piccone si sta per rompere Quindi dobbiamo Per forza di cose Andare a cercare Del mana O iniziare la bottagna Nella prossima puntata Ragazzotti O andare a cercare Nei vari dungeon Altro mana steal Perché Ragazzi Se no così Non posso fare Altrimenti Per quanto riguarda Mining level Proviamo a scrivere Mining Level 5 Mining level 5 No 5 ti ho detto Due punti Punto Due punti 5 Ok No tu sei Stronzo Allora Enhanced Devo scrivere Enhanced Ok Perfetto Perfetto Quindi Possiamo fare Dalla tinca Lend Lend Cioè Tipo Sì End Pkx End Ok Dovrebbe essere Questo Lend Stil Oh Gesù No Enhanced Vediamo Che cosa Possiamo fare Altro Five Dragon Stil Ice Dragon Stil Supremium Iridio Osmio Eh L'osmio L'osmio Tanta roba Però Osgloglas Osmiridium Titanium Platino Ionite Milion Terra Stil E basta E basta Se no I vari pkx Che magari Tipo Sono un po' Più Particolari Però Per farli Ragazzi Serve Per forza Di cose Altre cose Ragazzotti La puntata Di oggi Finisce qui Anche se Mi rendo conto Che Non è che Abbiamo fatto Chissà che cosa Perché Effettivamente Abbiamo Semplicemente Siamo andati A Trovare A fare L'enchantment Table Sono andato A combattere Contro un paio Di mostri Ah Ecco cosa Dovevo fare Ragazzi Ecco cosa Dovevo fare Chiudiamo Un belletto Eh Chiudiamo Con una quest Facciamo Così Così Dovrebbero Eserci Da qualche Parte Caminite Brick Poi Ha smeltato Lender Lender Perle Ah Ti serve La lava Maledetto E perché Non me l'hai detto Prima Figlio Allora Vediamo se C'ho la Dov'è La fire essence C'ho la qualche Parte Solo che Adesso Non riesco A trovarla Fire Eccola qua Poi mi serve Un bucket Eccolo qua Thank you Andiamo Andiamo a fare Così E così Thank you Thank you Thank you Lava bucket Per noi No Lava bucket Per noi Quindi dovrebbe Finire di Smentarmi Lender Perle Quanto tempo Voleva Per smentare Lender Perle Porca miseria Porca miseria Pochina Ok Ender Perle Fatta Quindi facendo così Dovrebbe darci La Il fragment E dovrebbe Rimanerci Quattro lingotti Quindi possiamo fare Cinque Ender Perle Praticamente Ok 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 Interessante Miniaturizziamo Questo Thank you Oh Cosa Uno Uno me ne dai No Ma sei un pezzo Di me No 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 Vabbè Raga Un cazzo Cioè Allora Vabbè Non è un problema In realtà Non è un problema Assolutamente Quindi ci serve Uno Due E il terzo Thank you Poi queste Soft Covered Bla 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 Sono una Stronzata Da fando Quindi facciamo così Poi prendiamoci Un bel po' Di ferro Che dovrei avere Da qualche parte Perché abbiamo smeltato Tipo A stack Eccole qua Quindi devi fare Proprio così Andare a recuperare Il martellozzo Che ho buttato Da qualche parte Ovviamente Raga Nelle prossime Magari off camera Stanotte mi metto Sistemo bene Tutte le chest Perché raga Così non si può andare avanti 32 slab Infine Possiamo fare 32 di queste Tanto ragazzi Serviranno Ne sono certo Al 100% Ci servirà Altra Caminite Caminite Coso Redstone A ferro Grazie Più Gli stick Eccoli qua Ci serve Ci serve Ci serve Dov'è? L'ho buttata Da qualche parte L'universal bind Eccolo qua L'universal bind Ne dobbiamo fare Ne dobbiamo fare Altri 12 Thank you Quindi mettiamo La metà qua La metà qua Nel frattempo Craftiamo Quella Redstone torch avanzata Ce ne servono Altre tre Thank you so much Perché sto facendo Tutta questa cosa Raga Perché si Perché si Perché si Adesso vedrete Il perché Adesso vedrete il perché Mamma mia Raga Purtroppo Non mi ero accorto Allora Controlliamo Un attimo La registrazione Si raga Avevo fatto Poco meno Poco più di 15 minuti Di registrazione Cioè non posso Farvi solo 15 minuti Di registrazione Raga Non ci avevo fatto caso Perché c'era Un'ora e mezza Cercando Lapislazzuli Cioè non potete capire Non potete capire Il nervoso Cioè poi ero Tranquillo Finché non ho visto L'orario Ho detto Cazzo Ci sono già da un'ora Non mi ha dato neanche uno Ok Altri tre di questi Thank you so much Abbiamo fatto finalmente La miniature Asion tool Come cavolo si chiama Vabbè Quella cosa lì Adesso Ragazzotti Non è che devo dormire No La risposta è no Andiamo a buttare dentro Tranne questo Ovviamente Che ci serve Quindi Dovrei avere Tutti i materiali Per poter fare Il bonsai pot Solo che vai Ricordati Quali erano Dovrebbero essere questi Poi di nuovo Mi li ributti dentro Testa Allora Bonsai pot Lui vuole Ah c'è Per fortuna Per fortuna C'è un macchinario Che ti fa In automatico Queste cose qua Perché Mamma mia Sennò sarebbe stato Sarebbe stato Veramente Fuori di testa Fuori Fuori di testa Ci serve un hopper Ma Io direi di Innanzitutto Ecco qua Questa non mi serve Ne possiamo fare due Forse anche di più Vediamo Manapool Nope Nope Grazie Vediamo Vediamo Solo un altro Ne posso fare Vediamo questo Small compacted machine No Ne possiamo fare Soltanto un altro Ci servono però Degli hopper Quindi andiamo a recuperare Del ferro Un Due Tre Quattro Un hopper Che si può fare Anche Così Perfetto Ora come funziona Questa mod Che in realtà È della compacted machine Ma Il tizio Ha pensato bene Di rompere le balle E unire le cose Quindi tipo Per fare il multiblocco Ci serve almeno Inizialmente Questo Procedimento qua Poi dopo Ovviamente Ti si sblocca il tutto Quindi facendo così Praticamente Qua succede Qua Ti mette la cosa Multiblocco Poi Dobbiamo mettere Questi così Qua In questo modo Qua Dovrebbe essere A meno che Non me li richieda Un po' più lontani E poi Tipo Buttare Opposite Fiat Progetto Ah Probabilmente Lui li vuole Messi In una certa Posizione Il che Raga È un po' Fastidioso Perché Ok Andiamo a togliere Il tutto Vediamo Se io tipo Metto questo qua L'altro Da click Ok Se io faccio così Ok Uno dovrebbe essere messo Qui Perfetto Se io tipo Faccio così L'altro Deve essere messo Qui E l'altro Qui 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 No Girato di così Perfetto Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Questi Questi messi Di così Infine I bricchettini Normali Messi Di così Fine Buttiamo L'oper Per il mezzo Ma lui vuole Che cazzo Però Mamma mia Allora Libero un attimo L'aria Ragazzotti Ok Adesso Funziona Però Per le strutture Tre per tre No 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 Allora Allontaniamolo Un attimino Perché Se no Non da funzia Quindi facciamo così No Di due blocchi Di due blocchi Ragazzi Così Perché se no Lui mi fa le strutture Solamente Che vogliono Un tre per tre Ma noi in realtà Abbiamo un cinque Per Eccetera Eccetera Quindi No Così Ovviamente Lui vede Che c'è Che palle Mamma mia Ok raga Vediamo un attimo Sì Dovrebbe essere un cinque per cinque Quindi se io facessi Una cosa Di questo tipo Lui dovrebbe Funziare Adesso Vediamo Mi raccomando Non deludermi Non deludermi Assolutamente Quindi facendo così Ok Mamma mia Raga Mi stavo per Incazzare Di brutto Oh Finalmente Un hoping Bonsai Pot Ne facciamo Immediatamente Un altro E ciccia E ciccia Ciccia Meno male che Nei dungeon Siamo riusciti a trovare Queste Specie di capsule Della Di dragon ball Perché Assomigliano Tanto a quelle Che tipo Bulman Usava Per Per creare le Tipo per Le macchine Le Astronavi C'è tipo Cosa del genere Ok E abbiamo Due bellissimi Bonsai pot Oh raga Che figo Che figo Che figo Adesso Con un po' Di dirt E Ovviamente Siccome noi Comunque abbiamo Abbiamo legname Ovviamente Allora Seminormali Raga Non so se Ma nel bonsai pot Non ha molto senso Metterli Secondo me Secondo me Ci conviene Più questo Perché Comunque E E C'è Gli slime Ci possono servire Quindi dobbiamo Fare così E Vabbè Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Allora Andiamo a prenderci Un'ottima chest Anche se In realtà Non ho Non ho Di che Fare La chest Ok Ma risolverei La cosa Facendo Anche un altro po' Di Cuocendo un po' D'oro Purtroppo Raga Lo so Lo so Che è sprecare Materiali Così Perché Purtroppo Non abbiamo Non possiamo Ancora duplicarli Però Raga Che cazzo Vi devo dire Non è che Ci posso fare Molto Allora Stranamente Non ho il ferro Ma io ne ho Smeltato Un bel po' Che fine ha fatto Il mio ferro Scusa Non l'ho usato Tutto per fare Le plate Vero? Non sa proprio Di sì Sono deficiente Qua c'è anche Altro oro Tra l'altro Allora Fermo Buttati anche Qui dentro Che è morbido Dammi Er ferro Tieni Adesso mi servono Solamente due lingotti Ragazzotti Ok Quindi Volevo dirvi Volevo fare Cioè Nel capitolo 1 C'era appunto L'iron chest L'iron chest Quindi Wood to iron chest Upgrade Molto semplice Da fare Se non hanno cambiato Il crafting Oppela Wood to iron chest Upgrade Thank you Ovviamente Ci prendiamo Un upgrade Per la fornace Ma anche senza Proprio guardare Iron to gold chest Fornace Cosa? Cosa è che è detto? Iron to gold chest Upgrade Beam Lui dovrebbe Vederlo Beep Beep Ovviamente Fornace di gold, grazie e fino al diamond gold to diamond chest ora io quello non me lo ricordo come si fa gold to diamond vediamo, due diamanti un pezzo di ferro, cioè di d'oro ma diamanti non ne ho più 6 pezzi di di vetro nel frattempo ovviamente per fare le cose molto più veloci bim che figo che figo, che figo allora, qua direi di metterci un bel po' di coal, grazie perfetto qua butterebbe tutto tranne te, perché tranne te anche queste non mi servono per ora qui andrei a buttare così 6 pezzi di glass grazie e possiamo fare la gold to diamond chest play chest upgrade dai bbbi 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 oggi gioco gold to diamond eeeh cosa ho fatto dai non ne posso non è vero no non è vero ma porca puttana allora prendiamo due diamanti di nuovo e ovviamente ci mette un po dai che palle non è possibile che sfiga vabbè 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 allora andiamo a prendere anche 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 ce l'avevo pure il glass sono un babbeoida allora abbiamo ferro gold iron in abbondanza per fare un'altra cesta di diamante solo che non mi viene cosa dovevo fare secondo voi che cosa cos'è che dovevo fare non mi viene ok facciamo la diamond furnace bim ora voglio vedere se c'è diamond allora furnace ok c'è la no la diamond dovrebbe essere quella più più power in teoria proviamo a mettere tipo del silver giusto per provarla e dai 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 c'è anche un recupero di coal quindi very good very good ah ecco cosa dovevo fare dovevo fare una chest per l'appunto quindi andiamo a recuperare un po d'oro posso fare così per fare magari un iron upgrade poi un gold upgrade poi uno due del del no in realtà il gold va al centro e due diamanti per farne un altro punto di domanda la risposta è sì ora ci servono essenzialmente due cesto line dormiamo perfetto raga chiudiamo la puntata in bellezza anche se durata un tanto anche questa però raga ci sta ogni tanto allora facciamo così facciamo cosa sta succedendo ok raga senza ulteriore indugio elimino queste cose ok ora sembrerebbe tutto a posto ok si meno male e non è lento non è lento non è lento non è lento dai va bene va bene va bene va bene ragazzotti la puntata di oggi finisce qui spero che la serie vi possa veramente piacere perché raga a me piace tantissimo a me questo modpack mi sta veramente piacendo tanto 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 allora vi devo dire la verità non mi piace un po come siamo messi perché perché abbiamo un casino di chest da sistemare il mod cioè il modpack il modpack in sé diciamo che ti dà molte possibilità e ti dà anche un'esplorazione niente male con la cosa che hanno messo i boss e quindi tipo tu devi star lì devi star lì magari se li trovi riesci a batterli ottieni armature forti cioè guardando la mia armatura che mi dà 8 9 cuori e mezzo in più cioè raga capite da soli che è veramente spettacolare questa cosa ma per il momento è tutto ragazzi io sono Matt e ci vediamo alla prossima ciao